Professor Fossil La sua falsa pubblicazione storiografica sull'agenda di Rokuf è piena di note. Le citazioni accademiche sono importanti. Novice Archaeologist Archaeologo Novello Quasi brillante purezzo, intendo indicarsi la carriera accademica il prima possibile. Infatti è già bravissimo a spaventare le persone antiche. Roky Archaeologist C'è l'archeologa rocciosa Questa imprendizia scienziata sta rispondendo per comprare un capello di ferro tutto suo. Bold Archaeologist Non c'è nessun riferimento nella Jones, eh? Nooo! E' più probabile trovare quattro professori del Mainshell College a sfruttare i master a trovare le parti che non insegnali in classe. Onti Apple Sauce Onti Apple Sauce è un po' di decerta pasta, dolce e tutt'altro che fasticciona. Inoltre le piace schiacciare un pisolino prima del Gran Galà del weekend Dei Gran Galà Apple Stars Apple Stars è un bel pony che non passa del tempo a parlare con gli amici Bene Io direi di vederci alla prossima Ciao